bene ragazzi questo video è dedicato a voi infatti siccome abbiamo raggiunto la soglia di 2000 iscritti e speriamo di crescere ancora di più ho deciso di farvi un regalo infatti vi porterò proprio qui per chi non lo sapesse quello che avete appena visto è il circuito internazionale del Mugello dove gira anche la MotoGP per capire infatti ragazzi uno di voi che stavano adesso questo video sarà il fortunato vincitore di un turno con istruttore al Mugello mica cazzi ragazzi come fare per partecipare dovete essere iscritti al canale e seguirmi su instagram dovete mettere mi piace a questo video e terzo dovete commentare quel motivo per cui dovessi essere proprio tu a vincere questa esperienza con me in pista al Mugello importantissimo ragazzi per poter venire in pista con me dovete avere una moto con patente a3 ovviamente la patente a3 poi dovete avere tutto l'abbigliamento necessario per venire in pista ovvero casco, guanti, tuta, paraschiena e ovviamente anche gli stivali come ultima cosa ragazzi le tempistiche quando si gira al Mugello si gira il primo di agosto che è un sabato e soprattutto molto importante le tempistiche per partecipare avete tempo fino a venerdì 17 luglio fino alle ore 17 e 30 perché poi alle 18 ci sarà in live l'estrazione del vincitore che potresti essere proprio tu bene ragazzi mi raccomando condividete il video commentate per vincere fate mettere mi piace dei vostri amici al vostro commento e chissà che proprio questo non spinga l'algoritmo a scegliere proprio il tuo commento per vincere ciao